Invia un'email. Lynn e sua nonna, Lucy, visitano Roma. Sono in un bar. È bello essere di nuovo qui. Nonna, quando hai vissuto a Roma? Trenta anni fa. Andiamo in un museo ora. Sì, ma prima devo andare al bagno. Lucy va al bagno. Un uomo entra nel bar e vede Lynn. Tu assomigli a una persona che ho conosciuto molti anni fa. Veramente? Sì, una donna che amavo molto. Non so dov'è ora. Lucy, arriva. Lucy, ti conosco. Certo, sono Marco. Ti ho inviato molte lettere. Non ho mai ricevuto le tue lettere. Ho viaggiato per molti anni. Ma ora sei qui. E finalmente possiamo stare insieme. No, ora sono occupata. Devo andare in un museo con mia nipote. La prossima volta, invia un'email. Ho inviato. Invia. Di nuovo. Io a... la prossima volta. Grazie.